ciao ragazzi buongiorno vorrei vorrei darvi alcuni consigli su come riaffilare raffettatrice lo so che molti lo sanno ma ci sono anche moltissimi che non lo sanno allora grazie a simone che mi che mi aiuta in questo video rosticceria in girasole qui acqua viva come si fa si innanzitutto la lama deve essere pulita quando pensi di averla pulita puliscila ancora di più svidi la sicura dietro queste sono due rotelle si piazza così riblocchiamo il tutto ben ferma apriamo la vela e facciamo partire la macchina la quella che affila è la ruota di dietro non quella davanti quindi si va a fare forza con la ruota dietro ogni tanto ci fermiamo per non so riscaldare la lana questo è il movimento giusto da fare fermiamo la macchina attendiamo che il disco è fermo e facciamo questo movimento avvicinati un po' simone fai vedere se si riesce a vedere io faccio questo movimento e sento che si è creato una bava un labbrino proprio senti come se fosse un'unghia che gratta a questo punto la lama sotto è pronta e andiamo ad eliminare quella bava basta due o tre giri con questa pietra davanti basta così la lama a questo punto è pronta facciamo questo movimento se sentiamo ancora la bava la facciamo ripartire e a questo punto se la bava non c'è più la lama è pronta ciao ragazzi dal vostro coltellario mattino grazie a tutti